Ancora una scritta di stampo razzista che appare a D'Arezzo, siamo nel parco Pertini, lato via Erbosa, eccola qua la scritta che è comparsa in questa panchina, si legge Negri D eccetera eccetera, tra l'altro non è stata finita la scritta e poi nella panchina accanto anche una svastica e dunque è il terzo episodio in poco tempo che si verifica a D'Arezzo, prima i volantini che erano stati sparpagliati in zona Saione, poi la scritta contro Oxfam e adesso ancora razzismo sulla panchina di un parco. Chi ha compiuto questo ennesimo gesto probabilmente non ha completato la scritta perché è messo in allerta dall'arrivo di qualcuno forse per la mancanza di spazio sulla panchina, un altro episodio da non enfatizzare ma neanche da sottovalutare anche perché spia di un malessere e di sentimenti potenzialmente pericolosi che una città come Arezzo non sembrano aver vissuto in passato.